ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi tutorial di questa borsa l'uncinetto realizzata con le mattonelle granny è la mia primissima volta che realizzo una borsa con le mattonelle ho visto questo modello spopolare su instagram e quindi me ne sono letteralmente innamorata e quindi ho deciso di realizzarla anch'io perché no ed eccomi qua scusatemi se non l'ho pubblicato prima questo tutorial ma era in programmazione da diversi mesi e solo che non riuscivo mai a terminare ed editare appunto il video e quindi ve lo beccate solo adesso perdonatemi solo questo perché sono abbastanza lanciata nella realizzazione delle borse infatti non so se vi siete persi il mio ultimo tutorial ve lo linko qui nella i di informazione dove ho pubblicato il tutorial di un'altra borsa in quel caso era ispirata a un modello famosissimo appunto la miu miu la miu bag e quindi ho realizzato appunto la borsa ispirata vi lascio anche un'immagine qui in sovraimpressione della borsa realizzata di miu miu e niente quindi sono davvero lanciatissima nella realizzazione di borse quindi questo è il mio secondo modellino che vi propongo e poi man mano ce ne saranno sicuramente altri qui sono partita appunto con la realizzazione di queste mattonelle mattonelle che ho preferito realizzare con la parte centrale molto colorata ma voi volendo potete utilizzare tutti i colori che preferite potete anche realizzarla con dei colori atunnali viene sicuramente fuori una chicca davvero stupenda io come primis cioè come primo approccio a questo modello volevo assolutamente realizzarlo di questa nuance di queste colorazioni perché adoro questi colori poi man mano seguiranno magari altre in altre colorazioni la medesima borsa e andrò a sperimentare con altre colorazioni infatti vorrò sicuramente realizzarla con il nero il grigio il bianco per andare a fare diciamo un modellino un po' più meno colorato ecco con i toni un po' più neutri un po' più basic tra virgolette in modo da poterla abbinare anche a più outfit niente ragazzi io spero che ovviamente questo modello sia di vostro gradimento voi dicevo potete realizzarla in tutti i colori che preferite anche con un'altra tipologia di filato io come filato ho utilizzato questo qui che è appunto un filato che è 100 filo di scozia 100% cotone di questa marca che è corallo rosa le antiche mercerie questo è un filato che va lavorato con un cinetto da 2 barra 2,25 io l'ho lavorato con un cinetto da 2,5 mm eccolo qui e mi sono trovata davvero bene poi ovviamente gli altri materiali sono appunto la chiusura che è indispensabile di questa dimensione qui ve lo scrivo ovviamente nell'info box la misura esatta di questa chiusura e in dettaglio è davvero molto molto bella è di legno con questi due pomelli in acrilico in questa bellissima colorazione era disponibile anche con i pomelli in altri colori ma ho preferito questo colore in modo che va ancora di più ad enfatizzare tutta la parte qui tutta colorata e poi il resto resta molto neutro infatti il pomello richiama un pochettino anche la tracollina che ho scelto di aggiungerla di questo colore tipo biscotto e poi va a richiamare ovviamente il legno della chiusura la chiusura presenta all'interno i magneti sono anche molto molto forti e resistenti infatti ho rischiato più volte di inserire il dito all'interno della chiusura perché aspettate che vi mostro quanto è bella forte e poi come vedete ci sono anche già i gancetti sulla chiusura una qui e l'altro e qui e potete tranquillamente agganciare le vostre tracolline tranquillamente potete anche cambiarle scambiarle mettere una tracollina anche fatta in perline perché no insomma potete anche andare a cambiare la tracollina di volta in volta rispetto al vostro outfit ecco all'interno ho utilizzato questa fodera in cotone a pua blu davvero molto carina ci sta davvero bene con l'insieme della borsa e come vedete la borsa è anche bella capiente poi ovviamente più cosine mettete all'interno e più l'effetto volume qua davanti è ancora più carina io provo a mostrarvi un po' con un po' di cosine all'interno c'è il telefono il labello poi un pochetto di fazzoletti vedete poi andate e c'entra ancora altre cose andate a chiudere la borsa e vi da questo effetto vedete tipo un pochettino poffutella qui che è davvero molto graziosa sembro io quando ho finito di mangiare che ho la panza e quindi è davvero molto carina niente io ripeto l'adoro ma si sente anche dal mio tono esaltato di voce che adoro questa borsa ovviamente adesso ve la spiego in dettaglio passo passo partiamo proprio con la realizzazione di ogni singola mattonella per poi andare ad unire le mattonelle e poi creare questa fascia davvero molto molto semplice nella realizzazione l'unica cosa tra virgolette complessa ma neanche più di tanto è andare ad inserire lì più che complessità e bisogna avere tantissima pazienza andare ad inserire il tessuto all'interno di questa scala natura della chiusura in modo da poi andare a fissare tutte le viti ma bisogna avere estremamente pazienza per fare quell'operazione alcune persone quando vanno ad inserire ovviamente il tessuto in questa scala natura inseriscono anche un goccino di colla io come vi dirò anche all'interno del video non ho inserito colla perché ho un rapporto di odio verso la colla e rischio sempre che mi appiccico tutta a volte me la ritrovo anche nei capelli per dirvi e quindi ho preferito di non andare a utilizzare la colla proprio per non sporcare i vari tessuti oppure la lavorazione all'uncinetto quindi ho preferito soltanto fissare il tutto con queste viti e il risultato ragazze tiene vi assicuro che tiene bene su il tutto niente io ovviamente vi lascio al tutorial ai materiali parte il filo, la fodera interna e la chiusura e la tracollina non ci sono altri materiali indispensabili per quanto riguarda la chiusura è fondamentale che sia di questa dimensione qui ve lo scrivo ovviamente nell'info box la dimensione esatta di questa chiusura qui ne ho anche un'altra disponibile già pronta per un altro tutorial l'ho presa proprio uguale, identica questa chiusura qui l'ho acquistata su Shane volendo se volete vi lascio anche il link diretto a questa chiusura se siete interessati e poi per quanto riguarda queste chiusure in legno un'altra piccola info poi giuro vi lascio al tutorial le avevo anche prese in passato da BB Craft queste sono un po' più piccole ovviamente con questa qui andrò a realizzare un altro modellino inizialmente volevo realizzarla con questa chiusura qui ma poi mi sono resa conto che effettivamente era un po' troppo piccola per realizzare questa borsa quindi sicuramente con questa e questa qui nera andrò a realizzare un'altra tipologia di borsa visto che adesso sono lanciatissima nelle borse all'uncinetto e sono davvero casata sicuramente questa qui andrò a utilizzarla con dei filati un po' più pesanti tipo pensavo a un vellutino o anche una lana, un acrilico insomma un filato un po' più pesantino rispetto a quello utilizzato in questo tutorial così vado a variare e cambio ovviamente anche il modello vi lascio tutte le info in descrizione insieme ovviamente alle misure della chiusura insomma tutte le info giù anche il link del tutorial della borsa di Miu Miu e niente, vi auguro buon tutorial e buona visione ciao! iniziamo la mattonella vi mostro step by step come si realizza per prima cosa dobbiamo realizzare il nodo iniziale questo è la parte finale appunto del nostro filo quindi vado a bloccarlo ripasso il filo in questo modo lo sovrappongo blocco poi prendo l'uncinetto inserisco l'uncinetto all'interno di questo cerchietto aggancio questo filo sul retro e lo porto davanti semplicemente poi prendo questo filo qui e vado a creare appunto il mio nodo ed eccolo qua il nodo iniziale appunto terminato ovviamente avremo questo spezzone di filo più corto che andremo piano piano a nascondere all'interno della lavorazione e questo filo ovviamente della bobbina che ci servirà per continuare la lavorazione adesso vado a creare le mie catenelle in che modo? blocco il filo in questo modo poi aggancio il filo e lo fuoriesce appunto dalla solina prima catenella realizzata adesso realizzo la seconda questa è la seconda la terza la quarta e la quinta ho realizzato appunto le mie cinque catenelle vado all'interno della prima catenella realizzata che è questa qui prendo il filo lo porto fuori in questo modo e ovviamente prendo questo filo e lo porto fuori in questo modo e in questo modo come vedete abbiamo chiuso il lavoro con una maglia bassissima e se proviamo ad aprire il lavoro un pochettino con le mani vedete che centrale c'è appunto questo piccolo foro e all'interno di questo piccolo foro andremo a realizzare le maglie alte dobbiamo realizzare esattamente 16 maglie alte in primis vado a realizzare tre catenelle quindi vado a realizzare prima catenella la seconda catenella e la terza catenella per alzare appunto il lavoro e questa questa sequenza qui delle tre catenelle rappresentano cioè sono appunto la prima maglia alta realizzata quindi adesso dobbiamo realizzare altre 15 maglie alte quindi vado ad aggiungere il filo sull'uncinetto vado ad inserire l'uncinetto all'interno di questo foro centrale quello che abbiamo mostrato prima prendo il filo e lo porto fuori in questo modo prendo nuovamente il filo sull'uncinetto e chiudo le prime due soline prendo nuovamente il filo e chiudo le altre due asoline ho realizzato appunto la seconda maglia alta cioè la prima però tenendo conto che le prime tre catenelle iniziali è la prima maglia alta questa è la seconda quindi vi rimostro nuovamente questi passaggi filo sull'uncinetto vado all'interno del foro prendo il filo l'aggancio e lo porto fuori in questo modo filo nuovamente sull'uncinetto e vado a chiudere le prime due di nuovo filo e vado a chiudere le altre due in questo modo nuovamente filo vado all'interno del foro gancio il filo e lo porto fuori filo sull'uncinetto chiudo le prime due filo sull'uncinetto e chiudo le altre due vedete? man mano vado a realizzare ovviamente tutte le maglie alte per un totale appunto di 16 maglie alte quindi vado avanti e realizzo appunto le mie maglie alte man mano che vado avanti come vedete sto inglobando all'interno del lavoro la codina aspettate che vi mostro sul retro vedete man mano che vado avanti sto inglobando all'interno del lavoro la codina che abbiamo lasciato ovviamente vado un po' anche a sistemare il lavoro in questo modo perché tenendo conto che dobbiamo realizzare appunto 16 maglie alte dobbiamo ovviamente sistemare un pochettino il lavoro in questo modo se no ci ritroviamo con tutte le maglie alte troppo cioè accavallate quindi sistemate un pochettino la lavorazione in questo modo poi continuate il lavoro realizzando ovviamente le altre maglie alte continuo così e realizzo tutte le maglie alte vado a realizzare l'ultimo punto il sedicesimo quindi vado sempre all'interno prendo di nuovo il filo e chiudo ed eccolo qui adesso per contare perché le prime armi vuole contare ovviamente le maglie può tranquillamente farlo anche in corso d'opera io sinceramente le conto in due modi differenti o le conto qui in alto vedete ci sono in questo modo ci sono tutte queste piccole v e si possono tranquillamente contare oppure possiamo contare direttamente tutti i vari vortici io sinceramente faccio in entrambi i modi e come potete ben vedere questo è il primo vortice primo il secondo il terzo poi se aprite un pochettino la lavorazione vi rendete proprio conto vedete uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici e questo appunto è il sedicesimo con le tre le tre catenelle la prima la seconda la terza ovviamente per chiudere adesso il lavoro vado all'interno della terza catenella in questa qui prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima quindi filo e filo in questo modo adesso vado a realizzare un'altra catenella che è appunto la catenella per bloccare in questo modo taglio il filo e sfilo in questo modo e ho bloccato appunto il lavoro poi le do una leggera aggiustata e via adesso con il filo sul retro possiamo anche restringere un pochettino questo foro quindi basta tirare leggermente e vedete che il foro va a rimpicciolirsi in questo modo poi con un ago da lana possiamo ripassare un altro po' e poi tagliare l'eccesso e questa è la parte iniziale del lavoro la parte centrale della nostra mattonella adesso cambio come dicevo prima colore quindi vado a prendere questo pesca e vado a realizzare esattamente i punti puff quindi prendo il filo pesca vado a realizzare nuovamente un nodo iniziale quindi nuovo filo ripasso sovrappongo uncinetto all'interno prendo il filo blocco questo filo qui e realizzo il nodo iniziale sfilo uncinetto prendo questa parte qui vado ad inserirmi all'interno di un qualsiasi punto io mi sono infilata in questo prendo il nodo iniziale lo porto fuori in questo modo adesso vado a realizzare due catenelle ovviamente sempre con il filo lungo questo filo qui più corto vado a nasconderlo sempre sul retro della lavorazione quindi filo lungo lo aggancio in questo modo vedete e vado a realizzare due catenelle la prima e la seconda adesso vado a realizzare i punti puff quindi filo sull'uncinetto blocco il filo in questo modo rientro nel medesimo punto qui in basso prendo il filo e lo porto fuori allungo un po' e blocco prendo nuovamente il filo blocco anche questo vado nuovamente all'interno del punto sempre del medesimo porto il filo fuori e lo blocco nuovamente questo passaggio quindi filo sull'uncinetto e lo blocco vado all'interno del medesimo punto prendo il filo lo porto fuori stessa altezza per tutti per tutti quanti per tutti i fili vedete e mi devo ritrovare esattamente sette anellini sul mio uncinetto vedete sono due tre quattro cinque sei e sette adesso vado a chiuderli tutti quanti insieme quindi filo nuovamente sull'uncinetto e vado a ripassare all'interno di tutte queste asoline in questo modo eccovi qua di nuovo filo sull'uncinetto e vado a realizzare una catenella vi mostro nuovamente questo passaggio vedete sul retro stiamo anche nascondendo questo filo quindi mettetelo in questo modo quindi filo sull'uncinetto blocco vado all'interno del secondo punto accanto prendo il filo e lo porto fuori allungo un po' e blocco di nuovo filo blocco vado all'interno del punto prendo il filo lo allungo un po' e blocco di nuovo filo sull'uncinetto blocco vado all'interno del punto prendo il filo e lo porto allo stesso livello degli altri e avremo esattamente sette anellini sul mio uncinetto due tre quattro cinque sei sette di nuovo filo sull'uncinetto vado a chiudere tutti in questo modo e catenello secondo punto puff realizzato vado avanti in questo modo quindi di nuovo filo vado nel punto accanto prendo il filo lo porto fuori e lo blocco di nuovo filo blocco vado all'interno del punto prendo il filo lo porto fuori blocco di nuovo filo sull'uncinetto vado all'interno del punto porto fuori e blocco e avremo esattamente i sette anellini eccole qua di nuovo filo e ripasso all'interno di tutti gli anellini e catenella ed ecco i tre punti puff come vedete sul retro il filo questo più corto lo sto nascondendo e quindi continuo così realizzando esattamente 16 punti puff ho realizzato esattamente 14 punti puff ve li indico questo è il primo il secondo il terzo il quarto il quinto il sesto il settimo l'ottavo il nono il decimo l'undicesimo il dodicesimo il tredicesimo e il quattordicesimo quindi vado a realizzare gli ultimi due punti puff quindi sempre filo vado all'interno del punto porto fuori di nuovo filo sull'uncinetto vado all'interno insomma rifaccio nuovamente il punto puff l'ultimo in questo in questo modo e vado a chiudere esattamente nella nella terza catenella con con maglia bassissima quindi maglia bassissima in questo modo poi un'altra catenella di sicurezza e taglio il filo lo porto fuori e blocco ed ecco qua il secondo giro terminato adesso vado a realizzare il terzo giro con il colore verdeacqua nuovamente vado a creare il nodo iniziale quindi filo lo passo in questo modo e rientro con l'uncinetto all'interno e tiro il cappietto ed ecco qui il nodo realizzato sfilo e adesso andiamo a lavorare esattamente tra i punti puff precisamente vi illustro lavoriamo precisamente all'interno dell'archetto dei punti puff se allargo un pochettino vedete vado a lavorare esattamente in questo spazio dell'archetto tra i punti puff aspettate che in questo modo vedete quindi prendo il nodo iniziale lo porto fuori così e vado a bloccarlo sempre con una catenella quindi catenella prima vado a realizzarne anche un'altra seconda catenella vado a tenere ovviamente il filo questo qui in questo modo e adesso dobbiamo realizzare esattamente dei punti alti non chiusi quindi vado a realizzare un punto alto quindi filo sull'uncinetto e non lo devo chiudere quindi filo sull'uncinetto vado all'interno dell'archetto prendo il filo lo porto fuori di nuovo filo sull'uncinetto e chiudo i primi due in questo modo e lo lascio così di nuovo filo sull'uncinetto vado all'interno dell'archetto prendo il filo lo porto fuori prendo il filo sull'uncinetto e chiudo i primi due ed ecco qui tre punti alti non chiusi ovviamente il primo l'ho realizzato con due catenelle adesso vado a chiudere tutti e tre punti insieme quindi filo sull'uncinetto e chiudo tutte e tre le asoline in questo modo e due catenelle uno e due ed ecco qua adesso di nuovo filo sull'uncinetto vado nel secondo archetto tra i due punti puff prendo il filo lo porto fuori prendo il filo e chiudo i primi due anellini uno e due prendo di nuovo il filo sull'uncinetto vado a realizzare un altro punto alto non chiuso porto fuori filo sull'uncinetto e chiudo i primi due nuovamente filo sull'uncinetto vado all'interno dell'archetto porto il filo fuori filo sull'uncinetto e chiudo i primi due e ho di nuovo tre punti alti non chiusi eccoli qua quindi filo sull'uncinetto e vado a chiudere tutte quante in questo modo e due catenelle uno e due nuovamente filo sull'uncinetto come vedete il filo sul retro lo stiamo nascondendo quindi filo sull'uncinetto vado all'interno di questo archetto fra i due punti puff prendo il filo e lo porto fuori filo sull'uncinetto e chiudo questi due nuovamente filo sull'uncinetto vado nell'archetto prendo il filo lo porto fuori filo sull'uncinetto chiudo questi due nuovamente filo sull'uncinetto vado nell'archetto prendo il filo lo porto fuori chiudo due ed ecco qua tre punti alti non chiusi adesso filo sull'uncinetto e vado a chiudere tutto e due catenelle uno e due e ovviamente vado avanti così fino alla fine del giro in ogni archetto tra i punti puff vado a realizzare tre punti alti non chiusi poi ovviamente li chiudo tutti insieme e realizzo due catenelle ho realizzato anche gli ultimi tre punti alti non chiusi ed eccoli qui vado a chiudere tutti quanti insieme e realizzo le due catenelle uno e due ovviamente adesso vado a chiudere il lavoro con una maglia bassissima nella terza catenella quindi prima seconda terza quindi vado nella terza catenella ed effetto una maglia bassissima e ovviamente vado sempre a realizzare una catenella di sicurezza e taglio il filo sfilo e blocco in questo modo ed eccola qua adesso ovviamente devo realizzare solo la cornicetta con il panna quindi prendo anche la colorazione panna ed eccola qua e andiamo a realizzare l'ultimo giro adesso vado a realizzare l'ultimo giro come dicevo prima con il colore panna quindi vado ad effettuare nuovamente il nodo iniziale quindi nodo iniziale ok e adesso sfilo e vado a lavorare sempre in questo spazietto qui vacanti cioè nell'archetto fra questi due punti quindi vado nella parte centrale in questo modo prendo il nodo iniziale lo porto da quest'altro lato in questo modo il filo quello più corto ovviamente andiamo sempre a bloccarlo invece con l'altro filo vado a realizzare esattamente quattro catenelle quindi questo è la prima la seconda la terza e la quarta catenella scusatemi il rumore di sottofondo ma qui stanno effettuando dei lavori alla casa di fronte quindi a qualsiasi ora ci sono questi rumori quindi quattro catenelle ed eccole qua adesso dobbiamo realizzare esattamente altri due punti alti doppi perché ovviamente queste quattro catenelle sostituiscono un punto alto doppio quindi vado a realizzare altri due punti alti doppi quindi filo sull'uncinetto e di nuovo filo sull'uncinetto quindi doppio filo vado all'interno del foro prendo il filo lo porto fuori filo sull'uncinetto e chiudo i primi due filo sull'uncinetto e chiudo le altre due filo sull'uncinetto e chiudo ed ecco qua adesso nuovamente due volte vado all'interno del foro prendo il filo lo porto fuori filo sull'uncinetto e chiudo i primi due filo sull'uncinetto e chiudo gli altri due filo sull'uncinetto e chiudo gli ultimi due ed ecco qua i tre punti alti doppi adesso vado a realizzare due catenelle una e due stiamo realizzando l'angolo della mattonella quindi due catenelle vado a realizzare altri tre punti alti doppi nel medesimo foro quindi all'interno di questo foro ci saranno esattamente tre punti alti doppi due catenelle e tre punti alti doppi quindi filo filo doppio filo vado all'interno prendo il filo e lo porto fuori filo sull'uncinetto e chiudo i primi due filo sull'uncinetto e chiudo gli altri due filo sull'uncinetto e chiudo gli ultimi due vado avanti ecco qua vado all'interno del foro porto fuori filo sull'uncinetto e chiudo i primi due filo sull'uncinetto e chiudo gli altri due filo sull'uncinetto e chiudo questi due vado a realizzare anche l'ultimo e ovviamente sul retro stiamo nascondendo anche questo filo bianco la codina adesso dopo aver realizzato appunto il primo angolo della mattonella vado a realizzare nei prossimi tre fori il primo il secondo e il terzo vado a realizzare solo tre punti alti quindi vado a realizzare per ogni singolo foro tre punti alti quindi filo sull'uncinetto vado nel foro prendo il filo e realizzo il primo punto alto secondo punto alto quindi vado all'interno prendo il filo e chiudo i primi due filo e chiudo gli altri due secondo punto alto realizzato vado a realizzare il terzo quindi filo sull'uncinetto vado all'interno prendo il filo lo porto fuori filo sull'uncinetto e chiudo i primi due filo sull'uncinetto e chiudo gli altri due ho realizzato i tre punti alti vedete eccole qua vado a realizzare tre punti alti anche per questo foro e anche per quest'altro quindi filo sull'uncinetto vado all'interno realizzo il primo punto alto vado a realizzare anche il secondo punto alto quindi vado a realizzare anche il terzo punto alto eccolo qua vado a realizzare anche nel terzo foro sempre tre punti alti quindi primo secondo e il terzo punto alto e in questo modo ho realizzato esattamente per tre archetti il primo il secondo e il terzo ho realizzato appunto tre punti alti adesso dobbiamo realizzare nuovamente l'angolo quindi andremo a realizzare tre punti alti doppi due catenelle e tre punti alti doppi quindi vado a realizzarlo come vedete il filo sul retro lo stiamo nascondendo questo qua bianco quindi vado a realizzare il primo punto alto doppio quindi doppio filo vado all'interno prendo il filo lo porto fuori filo sull'uncinetto e chiudo i primi due filo sull'uncinetto e chiudo altri due filo sull'uncinetto e chiudo gli ultimi due e il primo è fatto nuovamente due volte vado all'interno prendo il filo filo sull'uncinetto e chiudo i primi due filo sull'uncinetto e chiudo gli altri due filo sull'uncinetto e chiudo gli altri due vado a realizzare il terzo punto alto doppio quindi filo sull'uncinetto e chiudo i primi due filo sull'uncinetto e chiudo gli altri due filo sull'uncinetto e chiudo gli ultimi due restanti adesso due catenelle una e due e vado a realizzare altri tre punti alti doppi quindi doppio filo sull'uncinetto vado all'interno del foro prendo il filo, lo porto fuori e vado a realizzare vado a chiudere i primi due un'altra volta il filo sull'uncinetto e chiudo gli altri due filo sull'uncinetto e chiudo gli ultimi due eccoci qua di nuovo doppio quindi vado all'interno prendo il filo, lo porto fuori filo sull'uncinetto e chiudo i primi due filo sull'uncinetto e chiudo gli altri due filo sull'uncinetto e chiudo gli ultimi due nuovamente l'ultimo punto alto doppio prendo il filo, lo porto fuori filo sull'uncinetto e chiudo i primi due filo sull'uncinetto e chiudo questi due filo sull'uncinetto e chiudo gli ultimi due ed eccolo qua il secondo angolo adesso ovviamente vado a realizzare per tre archetti tre punti alti ed eccolo qua adesso vado a realizzare nuovamente l'angolo quindi ovviamente tre punti alti doppi due catenelle e tre punti alti doppi ed ecco qua un altro angolo terminato tre punti alti doppi due catenelle e tre punti alti doppi adesso nuovamente nel primo, secondo e terzo archetto vado a realizzare tre punti alti ed ecco qua come vedete appunto ho realizzato per questi tre archetti tre punti alti per ogni archetto adesso qui vado a realizzare nuovamente l'angolo con tre punti alti doppi due catenelle e tre punti alti doppi e poi per gli ultimi tre archetti primo, secondo e terzo vado a realizzare per ogni singolo archetto tre punti alti e completo ovviamente l'ultimo giro della mattonella ecco qui ho realizzato anche l'ultimo angolo e appunto ho completato anche questo lato qui realizzando come dicevo prima in ogni archetto tre punti alti ho realizzato appunto il terzo punto alto di questo archetto qui questo è il primo, il secondo e il terzo adesso vado a chiudere la lavorazione in che modo? vi mostro vado a tagliare il filo così sfilo in questo modo punto l'uncinetto dal retro andando verso davanti in questa sperando che si noti perché è panna ecco qua qui ci sono le due catenelle non nella prima nel in questa in questo punto vedete? il primo punto qui ci sono appunto le quattro catenelle io mi infilo appunto in questo punto qui dal retro prendo il filo che ho tagliato e lo trascino all'interno in questo modo lo passo da quest'altro lato e adesso sperando che si noti ecco qui sempre con potete farlo anche con l'ago ma io preferisco con l'uncinetto ripasso in questi due in questo modo vedete? e risbuco dal punto centrale di nuovo prendo questo filo e lo porto fuori in questo modo ok vedete? ho collegato questo è il collegamento sperando che si noti ecco qua sì questo qui è appunto il collegamento adesso non ci resta che prendere un ago da lana e andiamo appunto e andiamo appunto a nascondere tutti i fili mi raccomando questi passaggi non tirate tanto tirate il giusto in modo da non arricciare la mattonella poi se sentite che avete tirato troppo fate questo gesto e poi continuate a nascondere i fili e poi tagliare semplicemente i fili in eccesso e la mattonella ovviamente è terminata ovviamente già vi ho mostrato tutte le altre mattonelle realizzate adesso piano piano vado a nascondermi tutti i fili sul retro in modo che è tutto pronto per per cucire ogni singola mattonella e realizzare la borsa ed ecco qui il risultato le 19 mattonelle completate come potete ben vedere ogni singola mattonella ho nascosto anche i fili per tutte quante e questo è il risultato adesso vi spiego in dettaglio come andare ad unire le mattonelle tenete conto che ci sono diversi metodi per unire le mattonelle io vi mostrerò quello che per me è più semplice e veloce anche da realizzare questa è l'impostazione appunto della borsa di come appunto voglio alternare le mattonelle tutte colorate quindi andrò a realizzare questo pannello poi questo sarà la base della borsa questo è l'altro pannello e questi ovviamente i due laterali adesso per collegare le mattonelle andrò a fare una cucitura ovviamente partendo dalle prime due cioè queste due mattonelle le andrò ad unire e poi man mano andrò a collegare tutte le altre coppie di mattonelle quindi andrò a fare questa cucitura in verticale stesso discorso andrò ad effettuare anche qui in quest'altro lato per andare ad unire ovviamente queste altre mattonelle e poi ovviamente andrò ad unire in orizzontale e poi per quanto riguarda i laterali ci sarà una cucitura qui e l'altra cucitura da quest'altro lato quindi adesso vi mostro come si uniscono queste due mattonelle poi man mano vado ad unire le altre coppie di mattonelle rieccomi allora vi mostro l'uncinetto all'interno della seconda catenella dell'angolo ovviamente mi sono rinfilata solo vedete questo è il punto mi sono rinfilata solo ho preso solo la mezza catenella interna rispetto ovviamente al mio lavoro rispetto ovviamente all'unione e poi faccio la stessa identica cosa anche dall'altra parte quindi vado ad inserire l'uncinetto all'interno della mezza catenella interna eccola qui prendendo solo appunto il filo interno poi prendo un nodino iniziale lo aggancio al mio uncinetto e porto il tutto fuori porto la solina fuori quindi la porto fuori in questo modo ed eccomi qua adesso vado a lavorare ovviamente gli altri punti vado a dividere i fili nel senso il filo quello più corto lo metto da quest'altro lato e vado a lavorare ovviamente con il filo questo lungo della bobina adesso come vedete vado sempre nella mezza catenella interna prendendo appunto solo il filo questo qui in questo modo stesso discorso farò anche per quanto riguarda quest'altra mattonella prendendo appunto il filo solo questo qui poi aggancio il filo della bobina da sotto lo faccio uscire fuori e da tutto in questo modo sono fuori uscita appunto dalle asoline ripeto vado nel punto che viene subito dopo prendendo soltanto la mezza catenella interna stesso discorso farò anche da quest'altra parte quindi prendendo solo questa mezza catenella interna aggancio il filo da sotto lo porto fuori da tutte le asoline ripeto questo passaggio vado nel punto che viene subito dopo vedete questo è lavorato vedete questo è lavorato vado nel punto questo qui prendo solo la mezza catenella interna stesso discorso farò anche dall'altra parte mezza catenella interna prendo il filo da sotto e porto il tutto fuori sono quasi arrivata all'altro angolo quindi vado avanti inserisco in questo punto nell'altro punto aggancio il filo da sotto e lo porto fuori e adesso come vedete sono appunto arrivata all'angolo e vado ad inserire l'uncinetto all'interno della prima catenella eccola qua e stesso discorso anche dall'altra parte quindi vado ad inserire l'uncinetto all'interno della prima catenella prendendo sempre ovviamente il filo quello interno aggancio il filo da sotto e porto il tutto a fuori ed ecco qua terminato appunto questa prima cucitura questo è come si presenta aspettate che provo ad allargare questo è come si presenta la prima cucitura adesso per andare avanti semplicemente prendo altre due mattonelle e sempre con l'uncinetto vado ad inserire sempre l'uncinetto sempre nella catenella nella mezza catenella interna ovviamente parto sempre dall'angolo bisogna sempre partire dall'angolo nella seconda catenella dell'angolo quindi vado all'interno questa è la prima catenella questa è la seconda quindi vado nella seconda catenella interna aspettate che zoom ancora di più questo passaggio ecco qua quindi dicevo sfilo questa è la prima catenella io mi infilo nella seconda catenella sempre nel filo appunto questo qui interno stesso discorso anche dall'altra parte quindi questa è la prima catenella questa è la seconda ecco qua prendo il filo da sotto aggancio e porto il tutto fuori tiro un po' il filo in questo caso in modo da non lasciare buchi o quant'altro e poi proseguo nel medesimo modo quindi vado nel punto che viene subito dopo cioè questo prendo anche l'altro mezza catenella interna aggancio il filo da sotto e fuoriesce il tutto vado avanti aggancio il filo da questo lato aggancio il filo dall'altra parte prendo il filo da sotto e lo porto fuori vado avanti e proseguo così finché non arrivo all'altro angolo vedete questo è il risultato vi provo a zoomare un pochino ecco qua ovviamente quando andremo a fare anche la cucitura questa qui orizzontale questo foro questi piccoli fori non ci saranno perché sarà tutto bello compatto e ovviamente cuscito perfettamente quindi io vado avanti con questa cucitura e vado effettivamente a collegare tutti tutte le mattonelle tutte quante in verticale e poi effettuerò anche la cucitura in orizzontale per cucire tutto tutte le mattonelle assieme io effetto questi passaggi e ritorno da voi vi dimostro ovviamente il passaggio per collegare altre due mattonelle perché mi sono resa conto che riguardando appunto le clip non è visibile quindi prima catenella seconda catenella provo a zoomare di nuovo questo passaggio allora come vedete prima catenella seconda catenella io rientro nella seconda catenella eccolo qua sempre nella parte questa qui interna retro stesso discorso anche qui quindi prima catenella seconda catenella ecco qua prendo il filo da sotto lo aggancio lo porto fuori ok tiro leggermente il filo e poi vado avanti quindi vado nel punto dopo cioè questo rientro anche nell'altro lato aggancio il filo da sotto e esco ok ovviamente per andare avanti altri due mattonelle e andiamo avanti questo è come si presenta al momento la lavorazione ecco qui vedete ecco qua sto collegando man mano tutte queste mattonelle un piccolo appunto aspettate che provo a zonarvi questo ecco qui questo è come si presenta vedete la lavorazione quando andrete ad effettuare la cucitura questa qui in orizzontale per collegare ovviamente anche questo punto delle mattonelle ovviamente quando andrete a realizzare la cucitura dovete sempre ovviamente lavorare tutti i punti e poi non dovete dimenticare di lavorare anche l'altra catenella dell'angolo perché come vi dicevo prima l'angolo è formato da tre punti alti doppi due catenelle e tre punti alti doppi una volta appunto realizzate queste dei tre punti alti doppi laterali andremo a lavorare ovviamente la catenella posta questa qui posta appunto nell'angolo questa e stesso discorso anche dall'altra parte andremo a lavorare questa catenella che posta qui nell'angolo andremo a lavorare queste due catenelle insieme stesso discorso anche per questi altri due angoli quindi andremo a lavorare questa catenella insieme a quest'altra catenella quindi andremo a lavorare queste due in modo che poi dopo la lavorazione sarà bella chiusa non saranno più visibili questi due piccoli forellini e sarà tutto bello compatto come avete visto è estremamente semplice effettuare la cucitura io ovviamente vado avanti realizzando tutte le cuciture verticali e anche tutte le cuciture orizzontali per collegare tutte le mattonelle tutte le 19 mattonelle rieccomi ecco come si presenta al momento il lavoro effettuato tutte le cuciture sia in verticale e sia in orizzontale ho collegato anche queste due mattonelline per realizzare il laterale della borsa e ovviamente questo laterale l'ho collegato nella parte centrale dove sono presenti queste tre mattonelline che sarà appunto la base della nostra borsa infatti questo pannello qui sarà il primo laterale della borsa questo sarà il secondo laterale questa parte centrale sarà appunto la base della borsa e poi i due laterali ovviamente prima di andare avanti con la lavorazione vado a prendere le misure di questa lavorazione per riportarle su carta e tenerle da parte che mi serviranno ovviamente per creare la fodera interna quindi vado a prendere la misura della base che è appunto 19 cm poi l'altezza del pannello che è appunto 31 cm e poi per quanto riguarda il laterale della borsa è 13 cm e poi sappiamo che ogni mattonellina è da 6 cm quindi la parte del spessore del laterale della borsa sarà 6 cm come stesso discorso anche per la profondità della borsa interna sarà appunto sempre 6 cm quindi questi questi dati vado a scriverli su carta e li metto da parte che mi serviranno poi successivamente per realizzare appunto la fodera interna prima di realizzare la fodera interna vado a realizzare altri due passaggi il primo passaggio che andrò ad effettuare è quello di andare a bloccare tutti i fili iniziali e finali che mi sono serviti appunto per realizzare tutte le cuciture quindi sono un bel po' di fili da bloccare e da tagliare ovviamente questa lavorazione andrò a farla sempre sulla parte rovescio del lavoro questa come vedete qui davanti è la parte diritto vi mostro ovviamente il rovescio che è questo ed eccolo qui e come vedete sono un bel po' di fili sia iniziale del lavoro e sia ovviamente finali quindi un bel po' di fili da bloccare una volta bloccati tutti questi fili andrò a creare la struttura della mia borsa in che modo effettuando quattro cuciture le prime due cuciture vado a realizzarle alzando questo laterale sempre ovviamente dalla parte rovescio della borsa vado ad alzare il laterale alzo questa parte qui della borsa ed effetto una cucitura qui stesso discorso anche da quest'altro lato quindi alzo ed effetto la cucitura quindi due cuciture da questo lato e due cuciture da quest'altro lato quindi vado sempre ad alzare il laterale ed effetto anche qui una cucitura e l'altra cucitura e quindi avremo effettivamente già la borsina in questo modo con la parte frontale la parte retro questa qui è la base formata appunto da tre mattonelline in questo modo e poi ci saranno i laterali che andranno belli stesi in questo modo la cucitura sarà sempre uguale a quella che vi mostravo prima l'unica cosa che andrò a fare di differente rispetto a prima è quello di lavorare cioè di iniziare la lavorazione dalla catenella già lavorata prima nel senso vi ricordo che qui all'angolo della mattonella ci sono due catenelle una catenella già l'abbiamo lavorata per effettuare questa cucitura ovviamente per andare a fare questa quest'altra cucitura adesso del laterale devo rientrare devo ritornare indietro della catenella già lavorata prima quindi da quella catenella faccio fuoriuscire il nodo iniziale e poi man mano prendo sempre una catenella interna di questa mattonella una catenella interna di quest'altra mattonella il filo da sotto e vado a realizzare la maglia bassissima e quindi andrò man mano a realizzare la mia cucitura del laterale quindi l'unica cosa di differente è appunto ritornare indietro di una catenella in modo da far fuoriuscire il filo dalla catenella già lavorata in modo da avere una lavorazione continuativa è l'unica cosa differente che andrò a fare rispetto alla cucitura che ho effettuato prima quindi adesso vado a realizzare questi due passaggi da sola senza telecamera quindi blocco i fili effetto queste quattro cuciture e ritorno da voi rieccomi mi manca da cucire appunto l'ultimo lato e come vedete ho effettuato le cuciture qui per quanto riguarda i laterali e questo è il risultato ovviamente i forellini che vedete sono quelli della mattonella dove sono presenti le due delle due catenelle adesso vi mostro ovviamente vado a zoomare ok è estremamente semplice la cucitura è sempre uguale però magari bisogna prestare leggermente più attenzione per quanto riguarda alle catenelle e ovviamente ai punti da lavorare come vedete qui per quanto riguarda questa mattonella dove è presente il blu ci sono una catenella e questa catenella qui la seconda che è stata lavorata con ovviamente la seconda di questa rossa per quanto riguarda da quest'altro lato abbiamo appunto una catenella lavorata con questa qui rossa e come vedete adesso abbiamo da unire queste queste due a queste due catenelle per andare avanti quindi ho pensato di inserire l'uncinetto all'interno di questa catenella qui della mattonella rossa prendo un nodo iniziale lo aggancio e lo porto fuori in questo modo semplicemente e poi vado direttamente all'interno di questa catenella qui della mattonella blu e vado all'interno della catenella della mattonella questa qui gialla in questo modo poi sempre da sotto aggancio il filo quindi aggancio il filo al mio uncinetto e fuoriesco da tutte le asoline e eccomi qua adesso vado avanti come vedete io qui ho già la prima catenella del appunto del doppio del punto doppio quindi vado all'interno vado all'interno anche dell'altra aggancio il filo e lo porto fuori vado avanti vado nella mezza sempre catenella interna e vado fuori come vedete sto lavorando i medesimi punti sia di questa mattonella blu e sia di questa mattonella qui gialla vedete io adesso ho finito di lavorare questi tre punti stesso discorso anche per quanto riguarda la mattonellina gialla adesso vado nella qui ci sono appunto le tre maglie altre stesso discorso vado nella prima maglia alta quindi la mezza catenella interna corrispondente alla maglia alta sotto vado avanti così e vado a prendere sempre il corrispondente dall'altra parte quindi questa è l'ultima e l'ultima anche da quest'altro lato senza lasciare nessun punto vado a lavorare tutte le mezze catenelle interne rieccomi ecco come si presenta al momento il lavoro come vedete all'interno ho eliminato tutti i fili e questo è appunto il risultato all'interno della borsa questo è l'altro lato e questa è la parte diciamo davanti della borsa li ho eliminati i fili tutti quanti con l'ago da lana con la punta arrotondata adesso con un uncinetto da 2,5 mm e il cotone sempre nella colorazione panna vado a realizzare vado a realizzare un bordino questo bordino sarà almeno di due dita all'incirca questo bordino ci servirà appunto per andare a fissare la nostra chiusura questa qui appunto in legno davvero molto carina quindi adesso vado ad inserire l'uncinetto in qualsiasi punto della lavorazione quindi mi inserisco qui e vado semplicemente a lavorare i punti sottostanti con delle maglie basse quindi prendo il filo vado a realizzare l'avvio quindi vado a realizzare appunto il nodo d'inizio il cappietto in questo modo vado a togliere l'uncinetto inserisco l'uncinetto all'interno della lavorazione aggancio appunto e porto fuori il tutto in questo modo quindi adesso il filo questo qui più corto vado a nasconderlo dietro alla lavorazione e il filo questo qui di lavorazione ovviamente vado a realizzare le mie maglie basse quindi mi inserisco direttamente con l'uncinetto nel punto prendo il filo lo porto fuori di nuovo filo sull'uncinetto e vado a realizzare la prima maglia bassa vado avanti vado all'interno prendo il filo e vado a realizzare la seconda maglia bassa e vado avanti in questo modo quindi lavorando tutte maglie basse nei punti sottostanti in questo modo vedete adesso che ci troviamo appunto in prossimità dove appunto si presenta il foro della mattonella e la cucitura centrale vado ad inserire l'uncinetto all'interno del foro prelevo il filo e vado a realizzare la maglia bassa poi vado ad inserire l'uncinetto prima della cucitura qui in questo punto aggancio il filo lo porto fuori e realizzo un'altra maglia bassa poi stesso discorso dopo la cucitura vado ad inserire l'uncinetto all'interno qui aggancio il filo e vado a realizzare un'altra maglia bassa poi ovviamente un'altra volta vado all'interno del foro della mattonella accanto e vado a realizzare un'altra maglia bassa quindi quando siamo in dirittura appunto della cucitura vado a realizzare una maglia bassa nel foro una maglia bassa prima della cucitura un'altra maglia bassa dopo la cucitura e un'altra maglia bassa nel foro poi invece gli altri punti restanti vado semplicemente a lavorarli quindi vado all'interno di questo punto e vado a realizzare una maglia bassa vado nel punto accanto e realizzo un'altra maglia bassa quindi è davvero semplice non dobbiamo solo seguire la lavorazione e andare a realizzare i punti che sono presenti i punti che sono presenti sulla lavorazione dobbiamo realizzare appunto una maglia bassa quindi è stra semplicissimo bisogna seguire appunto la lavorazione vedete quindi vado avanti vado a realizzare tutti i punti di maglia bassa e termino appunto il primo giro di maglie basse ovviamente dovrò realizzare un bordino come dicevo prima quindi andrò a ripetere questa operazione per più e più volte in modo da ottenere almeno due dita di bordino quindi vado avanti e ritorno da voi rieccomi questo è il lavoro ultimato ho realizzato appunto la fascetta come dicevo prima è di due dita sono esattamente dieci file di maglia bassa realizzate appunto lavorate in tondo cioè vi mostro appunto l'inizio e la fine di ogni giro ed eccolo qua come potete ben vedere non c'è appunto quella riga antiestetica che si presenta quando andiamo a chiudere ogni singolo giro con una maglia bassissima e poi iniziamo con una catenella quindi ho lavorato semplicemente come dicevo prima in tondo in modo che ho realizzato un giro sono andata direttamente poi per lavorare il secondo giro nel primo punto realizzato di maglia bassa in modo da lavorare appunto a in tondo e non chiudere la lavorazione ad ogni giro ovviamente adesso vado a nascondere questo filo sul retro della lavorazione e poi posso andare a realizzare il cartomodello per realizzare ovviamente la fodera interna della mia borsa io questo passaggio già l'ho fatto mi sono portata avanti bisogna ovviamente prendere le misure della nostra borsa sia per quanto riguarda l'altezza sia per quanto riguarda la larghezza e anche ovviamente la profondità che ovviamente sono i laterali e ovviamente la base della nostra borsa una volta prese queste misure le vado a trasferire su carta mi sono facilitata il lavoro con questo con questo foglio con questo quadretto che misura esattamente un centimetro per un centimetro quindi è davvero semplicissimo riportare le misure prese su questo foglio perché non c'è bisogno neanche di prendere né righello né squadretta perché ovviamente vado semplicemente a tracciare con un vado a contare i quadratini e vado a tracciare le mie righe quindi è davvero stra stra semplice vi consiglio di prendere questo questo quaderno in modo da potervi facilitare con la realizzazione di qualsiasi carta modello per qualsiasi borsa che sia una borsa realizzata in perline o anche una borsa realizzata appunto come in questo caso all'uncinetto quindi adesso cambio l'impostazione della telecamera vi metto su un cavalletto un po' più alto in modo da mostrarvi dall'alto tutto il procedimento e vi mostro ovviamente come ho preso le come ho preso ovviamente le misure della borsa e poi come le riportate su carta rieccomi ho cambiato appunto l'impostazione della telecamera siete dall'alto dall'alto dei cieli vi mostro come ho preso appunto le misure per quanto riguarda la borsa allora prima cosa ovviamente ho preso la misura dal questo pannello qui ovviamente davanti formato appunto da sei mattonelle quindi uno due tre quattro cinque sei quindi io so che da questo punto a questo sono esattamente diciannove centimetri poi ovviamente questa è la larghezza della borsa esclusi i laterali i laterali fanno parte appunto della profondità della borsa e ovviamente anche della base perché la base è profonda sei centimetri e ovviamente anche i laterali sono profondi sei centimetri perché vi ricordate che ogni mattonella appunto è fatta è formata è misura sei centimetri ogni mattonella quindi è inutile che vi mostro però è appunto come vedete sei centimetri poi una volta presa queste due misure cioè diciannove centimetri e sei centimetri di ovviamente sia di base per quanto riguarda la profondità e sia per quanto riguarda i laterali vado a prendere la misura ovviamente della borsa dal bordino cioè qui in alto ovviamente fino a qui sempre contando sempre il primo pannello non tenendo in considerazione la base perché queste tre mattonelle qui in basso o la prima la seconda e la terza fanno parte appunto della base della borsa quindi io vado a prendere la misura dal bordino fino a questa cucitura qui e sono esattamente 15 centimetri quindi io so che l'altezza del pannello davanti è di 15 centimetri e anche ovviamente è l'altezza 15 centimetri ovviamente dei due pannelli laterali cioè questo e anche quest'altro quindi abbiamo esattamente tutte le misure per poter ovviamente realizzare il cartomodello su carta ovviamente la base profondità 6 e ovviamente la base è sempre da 19 centimetri quindi se io vado a prendere la misura esattamente di queste tre mattonelle da questa cucitura a quest'altra cucitura sono esattamente sempre 19 centimetri quindi una volta che ho preso tutte le mie misure me le sono appunto appuntate su carta e come vedete appunto ho realizzato questa sorta di piccolo schema dove ho ho preso visione di tutti i pannelli di tutte appunto le mattonelle e le ho riportate semplicemente su carta quindi ecco qui il cartomodello su carta appunto con il quadratino da un centimetro e come potete ben vedere appunto ho semplicemente riportato su carta queste misure quindi sappiamo che la larghezza è di 19 centimetri quindi sono andata a contare 19 quadratini poi ho lasciato un quadratino qui sui bordi su tutti i bordi anche qui sui lati in modo che ci servirà quel centimetro in più per le cuciture tutto qua quindi ho contato i miei 19 quadratini lasciando un quadratino a destra e un quadratino a sinistra per le cuciture stesso discorso anche qui in alto in alto più che altro ci servirà sia per questo pannello qui sia per l'altro per l'altro pannello questa questa sorta di di tessuto in più di un centimetro lo ha lasciato per andare a realizzare il bordino ovviamente della fodera quindi per non andare a lavorare con il tessuto tagliato a vivo vado a realizzare un piccolo bordino in modo da poter realizzare una fodera bella pulita ecco poi per quanto riguarda i laterali stesso discorso 6 centimetri quindi come vedete ho contato 2 4 6 quadratini lasciando poi un quadratino in alto e un quadratino in basso sempre quel discorso per quanto riguarda le cuciture quindi è estremamente semplice per quanto riguarda la base invece semplicemente ho riportato semplicemente i 6 quadratini perché questa qui appunto è la base ve la segno appunto con una penna però la base è questa qui vi riporto appunto solo gli angoli questa è la base della borsa come vedete appunto sono 2 4 6 quindi questa sarà appunto la base la base la base della nostra borsa e questo lato 1 lato 2 e i due ovviamente laterali della borsa adesso ovviamente queste misure cioè questo quarto modello lo vado a riportare sul tessuto il tessuto ho scelto questo qui in cotone con questi graziosissimi qua blu quindi adesso semplicemente vado ad aprire il mio tessuto ecco qua lo metto a rovescio aspettate che doppio quindi vado ad aprire il tessuto ed ecco qua questo è il tessuto ovviamente potete anche stirarlo e poi semplicemente andate a prendere il vostro cartamodello in carta lo adagiate sul tessuto prendete qualcosa di estremamente pesante per andare appunto a fermare la carta un peso o anche semplicemente il cellulare andrà benissimo quindi dimostro col cellulare prendete il cellulare lo posizionate in modo che il tutto resta bello fermo e poi semplicemente con una penna o un pennarello andate a tracciare tutti i contorni ovviamente di questo cartamodello e poi semplicemente andate a ritagliare la stoffa io effetto questi passaggi e ritorno da voi rieccomi ho tagliato appunto il mio tessuto ed eccolo qui adesso con queste pinzettine vado ad unire i laterali con il pannello davanti cioè semplicemente prendo questo e ovviamente il pannello vado a combaciare il tutto e mi aiuto con queste pinzettine in questo modo stesso discorso faccio anche da quest'altro lato quindi faccio combaciare i due tessuti i due lati e stessa cosa faccio anche dall'altra parte quindi questo lato qui vado a fissarlo con questo laterale l'ultimo lato ed ecco qua adesso semplicemente o a mano o con una macchina da cucire andiamo andiamo ovviamente a realizzare queste quattro cuciture due da questo lato e ovviamente due da quest'altro ed ecco qui la fodera vedete non resta che poi realizzare il piccolo orlo come vi dicevo prima in modo da andare a cucire vedete un orlo perfetto quindi adesso vado a cucire la fodera con la macchina da cucire e ritorno da voi rieccomi ho realizzato appunto la fodera interna ed eccola qui eccola qui pronta ho effettuato le cuciture nei due laterali sia da questo lato e sia ovviamente dall'altro e poi ovviamente ho realizzato questo piccolo orlo qui in alto tutto attorno adesso vado ad inserirla all'interno quindi inserisco la fodera all'interno l'aggiusto vado ad aggiustare per bene la fodera all'interno in questo modo vedete e adesso non ci resta che andare a cucire la fodera con la lavorazione all'uncinetto vado ad effettuare questo passaggio con un filo della gutterman 100% poliestere e un ago eccolo qui ho preso un pochettino un po' più grande ovviamente il filo vado a lavorarlo a doppio e poi alle due estremità vado a realizzare appunto un nuotino in questo modo e adesso vi mostro come vado a cucire il tutto rieccomi ho zoomato la lavorazione e adesso vi mostro come vado a cucire il tutto parto inizialmente dalla cucitura esattamente qui dalla piega e ovviamente nel laterale della borsa vedete questo è appunto il laterale della borsa quindi vado con l'ago all'interno del tessuto vado a pizzicarlo leggermente in modo da bloccare il filo vado a fare questa operazione un'altra volta una volta bloccato il filo vedete in questo modo vado a posizionare la lavorazione qui e inizio proprio da questo punto qui quindi vado solo nella parte retro del punto e vado ad inserire all'interno in questo modo quindi vado all'interno del tessuto realizzo il punto e poi mentre fuoriesco inserisco anche l'ago all'interno del punto ovviamente da questo lato non fuoriesce l'ago vedete e sistemate in questo modo ovviamente vado avanti così finché non ho cuscito l'intera l'intera fodera vi dimostro nuovamente questo passaggio quindi andate all'interno della fodera e sblocate da quest'altra parte vedete in questo modo realizzate il punto uguale ovviamente ai punti già realizzati e poi rientrate anche nel punto qui dell'uncinetto vedete solo nel laterale e seguite sempre bene i fili vi rimostro nuovamente quindi risbocate nel tessuto nella fodera realizzate il punto e poi infilate anche nel punto laterale ovviamente vado avanti e realizzo l'intera cucitura e ritorno da voi rieccomi questo è il risultato finale vedete effettuato appunto la cucitura proprio in prossimità della mia lavorazione cioè proprio vedete non ho lasciato nessuno spazietto l'ho proprio cucita qui al bordo in modo che poi quando inseriremo appunto la chiusura sarà visibile soltanto quando apriremo la borsa sarà visibile soltanto appunto la fodera con i pallini quindi ho bloccato anche già il filo questo come dicevo prima è il risultato e ve la mostro anche all'interno eccola qui rieccomi ragazze allora prima di mostrarvi come aggiungo questa chiusura alla lavorazione devo realizzare una modifica alla lavorazione perché ho fatto un piccolo errore e adesso vi spiego anche quale quando ho acquistato questa chiusura ho provato questa chiusura direttamente sulla lavorazione senza il bordino cioè non avevo ancora realizzato il bordino quindi ho provato questa chiusura direttamente qui dove sono presenti le mattonelle quindi quando ho fissato le mattonelle all'interno della scala natura della chiusura la circonferenza del lavoro era perfetta per questa chiusura una volta realizzato il bordino non mi sono resa conto di aver tirato troppo il filo questo è un mio problema lo so anche nella tessitura di perline tiro troppo il filo però in quel caso vanno bene perché le perline vanno tutte belle incastrate nell'uncinetto ovviamente mi ritrovo ovviamente con questi questi errori pardon comunque una volta realizzato appunto questo bordino e tirando troppo il filo ovviamente sono andata a ridurre leggermente la circonferenza della lavorazione e quindi adesso mi ritrovo che non riesco a fissare per bene la lavorazione alla chiusura come vedete questa parte qui è stata fissata per bene anche questa qui in alto l'ultimo punto se provo a fissarlo la lavorazione è troppo in tensione per i miei gusti ovviamente non mi piace quindi vado a risolvere questa problematica in che modo vado a eliminare tutte le viti nuovamente e vado ad apportare una modifica alla lavorazione non vado a toccare la fodera interna quella la lascio lì vado direttamente a lavorare sul bordo della lavorazione qui fortunatamente posso tranquillamente inserire l'uncinetto nell'ultimo giro di lavorazione e vado a realizzare un altro piccolo bordino tenete conto che in questa scala natura qui adesso vi mostro in questa scala natura qui ci vanno esattamente per inserire all'interno tre file di maglie basse vedete la prima la seconda e la terza quindi se io vado a realizzare un altro bordino sempre di maglia bassa ma con degli aumenti posso tranquillamente risolvere questa problematica ho pensato di andare a realizzare questi aumenti direttamente nei laterali perché poi nel laterale che avrò appunto bisogno di più agio qui se io vado a realizzare degli aumenti in questo punto avrò più agio qui per andare a fissare la lavorazione qui negli angoli quindi se io vado a realizzare degli aumenti in questo lato e da quest'altro lato ovviamente andrò a risolvere questa problematica quindi adesso vado a eliminare tutte le viti e vado ad effettuare questi altri tre giri tenete conto che nel primo giro vado a realizzare gli aumenti e nel secondo e nel terzo vado semplicemente a rifare le maglie basse nei punti sottostanti tenete conto che nel primo giro come vi dicevo prima vado a realizzare gli aumenti qui nei laterali quindi questo è il primo lato e poi ovviamente vado a realizzare gli aumenti anche da quest'altro lato ecco qua vedete questo è come si si presenta appunto la lavorazione una volta fissata vedete da questo lato una volta che io realizzo gli aumenti in questo laterale qui tenete che questo è l'inizio del lato e questa è la fine di questo lato quindi se io vado a realizzare degli aumenti in prossimità di questo lato e anche dell'altro avrò sicuramente maggiore agio per andare a fissare tutta la lavorazione alla chiusura quindi adesso come dicevo prima vado a sfilare il tutto vado a togliere tutte le viti e vado ad inserire l'uncinetto in uno dei punti e vado a realizzare sempre le maglie basse quando arrivo appunto nei laterali vado a realizzare degli aumenti per realizzare questo bordino abbiamo realizzato esattamente dieci file di maglie basse ovviamente in fase di editing per non farvi rifare il mio medesimo errore vi scriverò quando appunto abbiamo realizzato il bordino il primo la prima riga vi scriverò di realizzare degli aumenti oppure di non stringere troppo il filo in modo da non da non fare il mio medesimo errore ecco quindi in fase di editing vi avviso prima di questa di questa piccola problematica che sorta poi in corso d'opera niente ragazze io vado avanti realizzo questa modifica e ritorno da voi rieccomi ho realizzato appunto le tre righe in più e come potete ben vedere la lavorazione si presenta in questo modo e ho realizzato esattamente nella prima riga dieci aumenti in questo lato e dieci aumenti in quest'altro lato ovviamente ho realizzato una maglia bassa nella prima maglia bassa sottostante poi nella seconda maglia bassa sottostante ho realizzato l'aumento quindi poi nella terza maglia sottostante ho realizzato una maglia bassa nella quarta maglia sottostante ho realizzato un aumento e così via finché non ho realizzato appunto i dieci aumenti e quindi ed ecco perché si presenta in questo modo adesso vi mostro come andare ad aggiungere appunto la nostra chiusura ovviamente prendiamo la borsa e la mettiamo in questo modo così si presenta ovviamente all'interno come vedete non ho toccato per niente la fodera e questo è come si presenta quindi prendiamo la borsa la mettiamo in questo modo poi prendo la chiusura la apro e vado ad inserire all'interno in questo modo la borsa e già e già così potete vedere che va più che bene con gli aumenti adesso piano piano ci armiamo di santa pazienza e andiamo ad inserire questo bordino appena creato vedete come dicevo prima che appunto la fessura della nostra chiusura entrano perfettamente tre righe infatti come potete ben vedere una volta inserite all'interno il tessuto si presenta in questo modo quindi piano piano andiamo ad inserire questo bordino all'interno di questa fessura ovviamente questa operazione va fatta con molta molta calma e e ovviamente cercate di tenere la lavorazione già inserita in modo che non si sfili ecco e come dicevo piano piano andare ad inserire questo bordino all'interno in questo modo ok una volta inserito tutto il bordino all'interno vado a fissare ovviamente le mie viti e vado a chiudere le viti cioè a girare la vite finché non non sento più la vite sotto al dito aspettate cerco di aggiustarla tutta se riesco se riesco ecco qui ok ok più o meno quasi sganciata di nuovo comunque più o meno è questa e adesso piano piano vado a stendere un po' la lavorazione di poco e poi vado a mettere le mie viti quindi vado a mettere le viti prendo un piccolo cacciavite e ovviamente con una forbice con qualsiasi cosa che ha appunto le punte piatte potete anche aiutarvi ad inserire ovviamente il tessuto all'interno di questa fessura ovviamente alcune creative per fare questa operazione all'interno di questa scala natura di questa fessura inseriscono anche la colla io ho un brutto rapporto con la colla quindi non la utilizzerò però molte creative per fare questa operazione utilizzano la colla e poi ovviamente le viti io andrò ad utilizzare solo le viti quindi prendo una vite e mi aiuto appunto con il cacciavite in questo modo in modo che inizio a bloccare man mano tutta la struttura ovviamente giro la vite in modo che passando il dito sopra la vite non si sente perché tenete conto che questa è una chiusura calamitata quindi se non fissiamo bene le nostre viti ovviamente la borsa la chiusura non si chiude bene perché le calamite per agganciare devono appunto combaciare quindi piano piano vi dicevo vado a fissare tutte le viti e vado leggermente a facciamo con una godalana così magari ok e vado pian piano a sistemare e a tenere il tessuto man mano che vado a fissare tutte le viti e ovviamente in questo modo pian piano vado a fissare tutta la lavorazione sulla chiusura effetto questo passaggio e ritorno da voi rieccomi ecco la borsa terminata ve la mostro questa è appunto la base i laterali e questo è appunto l'altro lato davvero molto molto carina colorata questo è all'interno scusate ho messo un gomitolo all'interno questo è come si presenta appunto la chiusura con tutte le viti il lavoro è uscito molto pulito e perfetto ecco qui è anche bella capiente e adesso non resta che aggiungere appunto la tracollina come tracollina ho scelto questa qui che è una sorta di beige color biscotto e vado semplicemente ad agganciarla in questo modo l'altra invece vado ad agganciarla qui ecco qui in questo modo ho aggiunto anche la tracollina vado a chiudere ed ecco qua la borsa terminata niente ragazzi io spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento lasciatemi un commentino se vi va io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuove creazioni ciao ciao a tutte ciao a tutti